Ciao a tutti, allora un nuovo video a Ue Shopping Allora, sono stata in tre negozi e ho comprato in tre negozi, anzi io avrei comprato in uno e gli altri due mi hanno regalato un amoroso quindi è proprio un mini 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 aul, ve lo dico subito Allora, intanto vi faccio vedere cosa mi sono presa io Sono stata da UBS e mi sono presa questo vestito che l'ho pagato 9,99€ e mi piaceva troppo troppo Cioè nel senso è semplicissimo però è molto, cioè si abbina con abbastanza roba Cioè nel senso, vedete allora qui davanti è una canotta semplice dietro a questo forellino sotto al collo e poi va giù lungo 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 semplice, bello stretto fino a un po' più sopra della caviglia, quindi arriva a metà polpaccio almeno a me che sono bassina e questo mi piaceva tanto, l'avevo già visto tanto fa e ho detto me lo devo prendere e me lo sono preso Poi il mio amoroso cosa mi ha regalato? Allora siamo stati da H&M e mi ha preso questa magliettina che era l'ultima ma mi piaceva troppo veramente, non per il prezzo ma proprio perché mi piace addosso quindi è fatta tutta così con tutta questa motivazione qua, vedete? Motivazione? Sì, comunque con tutti questi disegniti qua è una manica corta, abbastanza verità aderente, è una XS ma mi sta perfetta da 9,99€ è pagata 3€ quindi questo perfetto, troppo felice poi le ultime due cose sono fatte da Zara e ho preso due cose uguali perché le volevo e quindi le ho prese allora ho preso questo crop top così semplicissimo a costine bianco che oramai vi esce dall'orecchia tutto e penso semplicissimo, vedete dietro come è fatto così e questo qua l'ho pagato 3,95€ sia bianco che rosso da lì sembra arancione ma non è arancione, è un bel rosso però mi sfalsa il colore comunque anche questo ho pagato 3,95€ sono tutte due S perché comunque la M mi stava troppo larga qua di seno e non mi piace sinceramente quindi questi sono belli aderenti le ho pensate da mettere tipo con un paio di pantaloncini a vita alta una gonnellina a vita alta una longhetta a vita alta un paio di pantacollant quelli a palazzo a vita alta quindi avete mille modi e sono due colori che io uso tantissimo e quindi perfetto ecco tutto però è stato proprio un video breve 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 però ci tenevo a farvele vedere perché per chi interessa le trovo ancora in negozio queste cose almeno la maglietta questa qua non lo so era nei saldi quindi non so dirvi comunque stop chiudo qua e vi mando un bacio grande grande vi lascio sempre qua nell'info box tutti i miei link tutti i... facebook, instagram e snapchat e niente vi saluto è stato un video cortissimo cortissimo portate paziente spero vi sia piaciuto lo stesso così non vi annoio neanche tanto la postazione l'ho cambiata perché è stato in questo momento posso mettermi solo qua e quindi niente io vi aspetto in tante mettete mi piace iscrivetevi mi fa tanto piacere 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 e vi saluto ci vediamo al prossimo ciao